Oggigiorno si dice che i dati sono nuovo petrolio, ma lo sapevate che siamo arrivati al punto per il quale le migliori decisioni oggi si fanno osservando la Terra, ma non da un aereo, bensì da un satellite. Benvenuti in Via 12 Design. I big data oggi sono il motore di un numero crescente di business innovativi, a volte rivoluzionari. E quando vi parlo dei dati probabilmente vi vengono in mente delle menti molto brillanti, ma di estrazione analitica, razionale e magari per alcuni anche un po' noiosa. Se invece vi parlo di creatività probabilmente venite irrorati dal fascino di queste menti costantemente alla ricerca dell'inatteso della nuova sfida. Seguitemi perché voglio raccontare di Orbital Insight, un esempio che credo renderà bene la potenza di questi due mondi quando si uniscono. Storicamente, come per molte commodity, il pezzo del petrolio viene analizzato e tutto il business del trading ad esso connesso viene analizzato valutando costantemente le giacenze mercato per mercato, nazione per nazione, quanto oro nero ci sia in quella data regione, commisurandola con la richiesta e via dicendo. Di nuovo, tradizionalmente questi report innanzitutto erano intrisi di aspetti politici, contenevano dei dati che venivano filtrati e spesso contenevano un ritardo che, se applicato a un business da centinaia di miliardi di dollari come quello del petrolio, aveva un costo e un grado di imprecisione estremamente onerosi. Orbital Insight si inserisce in questo mondo portando in maniera estremamente creativa la propria lettura di big data che adesso provo ad andarvi a raccontare. Orbital Insight, a cospicuo pagamento, fornisce agli operatori del mondo del trading dell'oro nero delle informazioni estremamente precise quasi in tempo reale e lo fa unendo un approccio creativo che credo vi sbalordirà a un approccio tipicamente analitico, peraltro implementato dal software. Facciamo un passo indietro. Tutti noi probabilmente sappiamo che l'idrocarbullo, il petrolio, semplifichiamo, viene stoccato in enormi serbatoi cilindrici che spesso, magari se capitiamo in zone portuali, possiamo notare. Ecco, questi grandi serbatoi cilindrici hanno un tetto che trasla, si abbassa e si alza, mentre le pareti stanno fermi, questo tetto, più si svuota questa grande cisterna, più abbiamo meno petrolio all'interno. Quando questo serbatoio è pieno, il tetto è a filo di queste pareti cilindriche, ok? Questa è l'infrastruttura che stocca il petrolio. Orbital Insight, con accesso a fotografie satellitari, oggi c'è un numero crescente di banche dati di grande precisione, di grande frequenza ne rifresce, giacimento per giacimento prende le fotografie di questa vista dall'alto satellitare dei depositi, nazione per nazione, regione per regione, e ha realizzato un software che fa quanto segue. Ovviamente ogni fotografia è scattata e contiene l'informazione del giorno dell'anno, della latitudine, della longitudine, quindi c'è una chiara allocazione della posizione del sole rispetto all'oggetto che vado a fotografare. A questo punto, sempre in automatico, il software, misurando la dimensione dell'ombra proiettata all'esterno da questo grande cilindro, riesce ad approssimare con buona precisione il volume, quindi la capacità di quel serbatoio nella sua interezza. Ora il software continua, sempre in automatico, e fa la seconda osservazione. Misura, letteralmente andando proprio a calcolare l'estensione sulla fotografia, pixel per pixel, la dimensione dell'ombra interna, ovvero quella che le pareti cilindriche che sono fisse, proiettano sul tetto. Ombra che, se il serbatoio è completamente pieno, quindi il tetto è a filo delle pareti, scompare. Qualora il serbatoio fosse completamente vuoto e quindi il soffitto, la parete orizzontale fosse a terra, avrebbe l'estensione massima. Facendo quindi un rapporto fra l'ombra esterna, che mi indica il volume complessivo di questo serbatoio, e l'ombra interna, ne ricava la percentuale, quindi so serbatoio per serbatoio quanto olio ci sia all'interno. Proseguendo in una logica ovviamente automatizzata, data dal software, faccio questo monitoraggio per ogni singola cisterna, per ogni singolo porto, per ogni singola regione, per ogni singola. E io a questo punto riesco a redigere, in tempo pressoché reale, con una puntualità molto superiore a quella che era la tradizione del business, del trading del petrolio, e peraltro con una precisione che va ben oltre il filtro a volte di natura quasi politica che certe nazioni, che certe associazioni volevano far conoscere della loro capacità di offerta di petrolio. Questo, prendiamo il fiato, se non è un esempio di ingegno creativo applicato a una dorsale analitica che quindi va a sviluppare un software, io non saprei cos'altro inventarmi sinceramente. Però vedete, e mi fermo qui per lasciarvelo sedimentare, come a questo punto l'unione di questi due mondi possa diventare completamente disruptive. E questo tipo di approccio che quindi vede il nuovo petrolio, niente di più appropriato, essere nei dati, però andare a trattare, concepire, utilizzare, manipolare questi dati nella maniera più fresca, inattesa, a sua volta disruptive, diventa assolutamente esplosivo. Certo che nel vero spirito V12 Sparks questo lo riesci a fare quando sei costantemente portato a osservare al di là dei confini del tuo business, al di là dei confini della tua azienda tipico, approccio curioso contaminato che noi molto umilmente vi suggeriamo in ogni puntata. A questo punto conoscete degli altri esempi? Avete degli esempi brillanti dove l'approccio analitico dei big data e l'approccio creativo del cosa farne vi abbia particolarmente colpito? State aiutando la vostra azienda, la vostra realtà, il vostro lavoro a costantemente guardare al di là dei limiti tipici del proprio settore? Fateci sapere nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao!